Dal 1 al 9 febbraio circa 3.500 ragazzi delle scuole elementari, media inferiori e superiori della provincia di Torino parteciperanno all'ottava edizione invernale della manifestazione Passport, porta aperta allo sport per tutti. Ad ospitare gli allievi delle scuole saranno le località di Ceresore Reale, Clavier, Coazze, Moncenisio, Pinerolo, Pragerato, Prali, Southed Wux, Sestriere e Usseglio. Come sempre la provincia di Torino garantirà il trasporto degli allievi nelle località prescelte per le attività di avvicinamento e scoperta degli sport invernali. Quest'anno Passport propone due importanti novità, la possibilità di provare il curling nell'impianto olimpico di Pinerolo e lo sled dog presso la scuola di Tiziano Ruffa e Roberto Giunco a Moncenisio.